Bella magliuuu, benvenuti nasce mai sempre burdelle oggi attaccheremo gli adesivi in faccio un muro e direte voi ma che cazze cazze voi stiamo andando al presupposto arrivaci e mi direi che cazze e non sono cazze tue e tu non ti esorbisci noi e non sono cazze tue ti esorbisci noi che attacchiamo gli adesivi ciò e non sono cazze tue ma allora facciamolo dire quanti adesivi abbiamo hai visto prendi il tepolo poi ci sono tantissimi adesivi ce n'è che è naturale cominciamo sennò non ce ne abbiamo più vai a cazzo scusami ci vedo gli adesivi ti posso staccarli? due attaccati di una lunghissima serie si però come sta seccando bene eh oggi abbiamo comprati da shane no, da aliexpress eh però il nome di un sito che c***a li sa bambini sbagliati noi siamo dei bravi figli di puttana adesso in sottofondo per un secondo altrimenti ci levano in copyright un pezzo di kane brown vai wake up everyday here in the un calab***e io attacco Tupac ragazzi guarda Tupac guarda lo nero su bianco comunque ragazzi inizialmente parlavamo dicevamo dobbiamo pensare a come metterli poi siamo resi conto che forse il modo più preciso è la casualità fight club capo che c***e c***o ha persino un po' di musi però cambio di inquadratura effettuato vai viva vera ma... c'è da comprendere acquisto? acquisto ma che me ne frega no non voglio prendere il costume da cammello faccio un'impressione che cosa troverà nel carrello mercoledì 25 gennaio fra due giorni se per quel giorno non è ancora uscito il video e possiamo infilarci delle grippe a volo di noi che lo mettiamo partiranno delle grippe di noi che lo mettiamo ora ragazzi è arrivato non è un quadretto è tipo un poster annuncia tutto proprio un momentino vai se lo andò allora vai ti uccidami quando è dritto vai raccomando inizia a spillare la prova ok frate adesso tocca gli adesivi mannaggia poi io ce l'abbiamo fatta in mezzo ci sono manco ecco qui tutta la parete completa frate ma se non è successo andate a vedere su instagram il risultato sicuramente metteremo una storia grazie mille per aver visto il video lascia like commenta con ma chi è chi là dentro che praticamente si è messo lì là in faccia vabbè l'ho mangiuto vabbè l'ho mangiuto vabbè fa parte il sito in me